Ciao, io sono Marina Damo, sono l'amministratore di ATLOS, ATLOS è una software company, siamo una PMI innovativa iscritta nella sezione speciale e quest'anno siamo inti per la seconda volta della WorkSummit portando il nostro ultimo prototipo, l'Eomia è un assistente digitale verticalizzato appositamente con funzionalità di Energy Manager, a differenza, perché tanto è una domanda che ci sono tutti, di altri prodotti ben più noti, quali Alexa, Google Home, eccetera, lei non è uno smart speaker, è un vero e proprio sistema di intelligenza artificiale che sta integrato in questo hardware, quindi all'interno di questo hardware c'è un mini computer con una piattaforma integrata di intelligenza artificiale che è stata sgruppata da noi, quindi è interamente proprietaria, ha la capacità quindi chiaramente di eseguire delle azioni che sono il classico accendi e spegni ma non solo, quello di ottimizzare quelli che sono i consumi e il comfort percepito all'interno di abitazioni e uffici. Naturalmente esegue anche interiori azioni, quelle che ormai normalmente ciascuno di noi si astende da un certo tipo di prodotto, che sono quello di inviare mail, inviare whatsapp, rispondere a domande varie di futura generale, ma la cosa principale è il motivo per il quale lei si differenzia e l'aspetto legato alla gestione intelligente dei consumi elettrici.